Devo dire che quando Asmoun giocava con lo Zenith mi piaceva molto, era un attaccante comunque particolare con delle caratteristiche che loro rendevano particolari rispetto ad altri interpreti del suo ruolo però in tutta franchezza era un giocatore che mi piaceva perché comunque vi invito a osservare cosa fece nel corso della sua esperienza lo Zenith ad esempio ci fu una fase a girone in Champions League in cui lui segnò sia il Chelsea, segnò alla Juventus e mise in evidenza un repertorio piuttosto completo poi chiaramente è andato a finire in Germania però quello parliamo di un Asmoun al pieno della sua condizione mi ricordo che la Roma oltre a trattare Schomuro dopo contestualmente stava trattando anche Asmoun poi decise di pirare con ben 20 milioni di euro sullo sbeco quindi io di base non è che posso definirmi un estimatore di Asmoun ma sicuramente all'epoca era un giocatore che mi piaceva molto però certamente condivido le perplessità che state tutti voi esternando in queste ore perché innanzitutto parliamo di calcio perché in questa città è una cosa di cui purtroppo si parla poco di calcio c'è proprio parlare di calcio non di pertegolezzo, viacchiericcio e quant'altro Asmoun come ho detto prima è un tipo di centravanti con delle caratteristiche ben precise ad esempio è un giocatore fortissimo nel gioco aereo che si esalta con i cross infatti se vedete comunque le reti che segnava nel corso della sua esperienza in Russia e anche i pochi che ha segnato in Germania comunque c'è lo stacco aereo tra le sue caratteristiche municipali questo mi lascia perplesso perché ho pubblicato su Twitter una statistica che per me è stato il grande problema della Roma dello scorso anno cioè la totale, come dire, inadeguatezza da parte dei tersini infatti ho tolto Spinazzoli che poi ha fatto 4 assist non è che ne abbia fatti 800 il nulla più assoluto perché Zaleschi 1, Selic 1 e Karlsdorf 0 quindi gli esterni sono sicuramente una cosa su cui dobbiamo migliorare ma non è che abbiamo preso Christensen però non è che abbiamo preso un giocatore che ti può fare la differenza quindi resto ulteriormente perplesso per aver preso un profilo a Last Moon perché comunque, ripeto, questo è un giocatore che si esalta quando riceve tanti cross e sinceramente non vedo nella nostra rosa calciatori capaci di servirlo in questa maniera quindi questa è una perplessità proprio di natura calcistica che va a delineare proprio la nostra maniera di giocare ma secondo me questo è un problema che comunque hanno pagato a caro prezzo anche Belotti e Tami Ebram lo scorso anno poi ovviamente l'altra perplessità è legata a come è maturato l'arrivo di Azmoon cioè la Roma prima di arrivare a Azmoon è passata da Morata, Scamacca, Zapata e sono tutte cose non inventate dai giornali ma certificate dai diretti interessati perché i diretti interessati hanno parlato di Roma quindi se non i calciatori in prima persona i loro agenti oppure alcuni dirigenti delle altre società quindi sono state tutte trattative reali non inventate di sana pianta e quello che perplime che comunque lascia un pochino con l'amaro in bocca è che quando tu passi veramente così di palo in frasca questo va a delineare come ci sia confusione procedurale come le reazioni ai fallimenti sul mercato non seguono necessariamente la stessa logica quindi da questo punto di vista io capisco le perplessità delle persone così come capisco le perplessità insomma sul fatto ad esempio che sono stati scartati alcuni giocatori come Daka perché c'era la Coppa d'Africa e comunque Azmoon potenzialmente può andare in Coppa d'Asia poi spetterà a lui la decisione di andare con l'Irano o meno perché poi lì ci sono state problematiche di natura politica quindi cose più grandi del calcio e quindi non è questa la sede per trattarle comunque ripeto a me questo acquisto rende abbastanza perplesso dal punto di vista proprio calcistico per il modo in cui giochiamo che purtroppo siamo molto sterili in fase di cross e ovviamente il giocatore va anche detto che è tuttora infortunato e dovrebbe recuperare nel corso di settembre e vediamo in che maniera ovviamente ma ripeto a me se lo analizzo da un punto di vista calcistico questo mi lascia perplesso perché Azmoon che sta bene in termini assoluti è un giocatore che a me piace anche ma devo capire se adatto effettivamente al modo di giocare della Roma tutto qui questa è la mia opinione su questo acquisto ricordiamolo praticamente gratis perché è venuto in un prestito da 0 euro e se la Roma poi lo vorrà riscattare non ha l'obbligo ma il diritto a poco più di 10 milioni credo 11-12 milioni stando alle prime cifre che trapelano